...partendo dagli asili nido e divisi per ATS, quindi per gli asili nido oggi sui una totale di 165.100 bambini, ricordiamo che i bambini che vanno all'asili nido sono il 30% del totale, comunque sui 100.000 noi abbiamo anche già contattato la FIP che è la federazione italiana delle scuole materne e anche a Sonidi che incontreremo anche questa venerdì per presentare anche a loro la nostra procedura e quindi lavoriamo un po' su tutti, ...i bambini che non hanno inadempienti all'esavalente sono 8.958 su tutta la regione, li avete divisi anche per ATS, a Milano per esempio, Milano città sono 1.173 pari al 5.1 e poi quelli adempienti all'esavalente, gli inadempienti al morbillo, parotito e rosolia sono invece 10.240, non è un dato che si somma chiaramente, è probabile che molti dei bambini che non hanno fatto il trivalente non abbiano fatto anche l'esavalente, però non è detto, quindi è un dato che non si riesce a definire, non è sommabile e probabilmente è il dato complessivo, è quello della trivalente e ha aumentato il 30%. Quindi sostanzialmente quelli adempienti all'esavalente sono 5.4 dei bambini degli asili uniti e 6.2 al morbillo, parotito e rosolia. Per quanto riguarda invece le scuole dell'infanzia per cui diciamo i bambini delle corte 2012, 2013, 2014, su un totale di 269.903, l'inadempienti all'esavalente sono del 5.6 che sono 15.020, l'inadempienti al morbillo, parotito e rosolia sono 20.253 pari al 75%. Anche perché sono, come sapete che nell'esavalente ci sono quelli che erano obbligatori, diciamo per indicazioni, quindi sono quelli che sono più fatti, il tema del morbillo è uno degli elementi poi su cui c'è stata maggiore resistenza negli anni, tutta la disinformazione e quant'altro sull'autismo e via dicendo. Sulle scuole primarie e secondarie, le corte che vanno da 2001 a 2011, il totale sono 1.056.138 ragazzi, di questi il 7.6 non è vaccinato, è inadempiente sull'esavalente, c'è 80.120 e il 9.4 è inadempiente sul morbillo, parotito e rosolia sono 98.875. I dati comunque li avete nella cartellina.